Il binomio Mafra e Targa Florio classica è ormai una tradizione consolidata, ma in realtà nell'equipaggio Mafra quest'anno troviamo grandissime novità. Massimiliano Mattioli con la sua dolce metà, Antonella Spaudola. Massimiliano, raccontaci le sensazioni, le emozioni di essere qui. Le emozioni sono moltissime, è la prima volta che facciamo la Targa Florio, è la prima volta che mia moglie fa da navigatrice e quindi sarà solo un grande divertimento e perché no, se riusciamo a fare anche qualche punto non ci dispiace. Massimiliano Mattioli Massimiliano Mattioli Massimiliano Mattioli Grazie a tutti.